Su quelle auto c'è un grossista della droga tenuto sotto osservazione da tempo e ora arrestato dalla polizia locale di Vigevano. Nelle immagini possiamo vedere il suo trasferimento verso il tribunale di Pavia, dove lo attende un processo perdirettissima. L'uomo è un 39enne albanese, regolare in Italia e senza precedenti penali, su cui si era posata l'attenzione del nucleo operativo. C'era forte sospetto che fosse lui a rifornire di droga diversi bussero operanti in città. Nel pomeriggio di mercoledì una pattuglia in borghese è riuscita a coglierlo sul fatto durante uno scambio. I fatti si sono svolte in corso a Argentina. Il 39enne albanese aveva caricato in auto un egiziano di 60 anni per cedergli dello stupefacente. 5 grammi di cocaina in cambio di 225 euro. Dopo i primi accertamenti, Grossist è stato fermato e gli agenti si sono trasferiti a casa sua per la perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione c'erano 1300 euro in contanti frutto dell'attività di spaccio e 45 grammi di cocaina già divisi in dosi che gli avrebbero fruttato, se venduti, una somma superiore ai 4000 euro. La droga è stata trovata in un nascondiglio grazie al fiuto dell'unità cinofila. Il 39enne è stato quindi portato in camera di sicurezza dove è rimasto tutta la notte in attesa di essere poi trasferito a Pavia per il processo.